Musica 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 Ma che succede? Ma si mamma, che succede? Ma Laura? Ma che succede te ne ho chiedo io sui social, all'agenda news.com questo nuovo trattamento è veraviglioso, lo voglio fare subito Ma stai parlando della Color Spa? Certo! Ma certo? E va bene, prendiamo l'appuntamento L'appuntamento è niente, io lo voglio fare subito Ma no Laura, c'è un salvatino di gente No, mi interessa, io lo aspetto E va bene, cercheremo di fare il possibile giù soddisfatti con la Costa Musica Musica Oggi ho letteralmente fatto irruzione in salone e visto che i tempi d'attesa sono abbastanza lunghi ho avuto la possibilità di documentarmi in maniera molto organica su quello che andrà a essere la rinascita del mio capello attraverso il colore e attraverso l'applicazione di questi prodotti Allora, oggi per il mio giorno libero non vado in spa porto i miei capelli in spa Che cosa significa? Con questo nuovo trattamento coloro i miei capelli vado a ravvivare quello che è il loro colore a dargli un tono, una brillantezza un corpo, tutti nuovi ma è un po' come se iniziassi un percorso spa dedicato appunto ai miei capelli Consiste in tre fasi questo trattamento che è una meraviglia non vedo l'ora di iniziarlo e poi portarlo a termine C'è una prima fase che si chiama integrated color system sistema integrato di colorazione che mi permette di intervenire su quello che è il colore la lucentezza e la brillantezza della mia chioma dopo una quindicina di giorni ritornerò qui a fare il color maintenance system sistema di mantenimento del colore che va a reimplementare il trattamento già fatto quindici giorni prima e si prende cura anche della cute poi tornerò una terza ed ultima volta a fare il color boost system che è un sistema di potenziamento del colore che va a rinnovare il colore e a dare appunto nuova vitalità e forza alla chioma nel suo complesso L'aspetto più incredibile più interessante di tutta questa gamma di prodotti e colorazione è la base è la base di partenza Paul Mitchell questa volta ha superato se stesso perché andando alla ricerca di una soluzione il più naturale possibile per andare a lavorare sul colore e sulla bellezza del capello è andato a riscoprire una componente storicamente storicamente pazzesca utilizzata per secoli dai nativi hawaiani infatti i nativi hawaiani hanno da sempre utilizzato il succo fragrante del fiore di awapui per andare a idratare pelle e capelli tra un po' arriverà la mia ora l'ora di bellezza dei miei capelli e quindi diamo un'occhiata alla cartella colori e anche qui c'è da studiare perché la cartella colori include diversi tipi di colorazione permanente e semipermanente oltre ad offrire trattamenti di bellezza integrati e colori assolutamente fantastici Allora abbiamo un attimino definito la colorazione con Laura facendo una consulenza guardando sia i suoi capelli che la colorazione che vuole ottenere e abbiamo deciso per una tonalità biscotto con delle sfumature un pochino più chiare e lo affido alle mani esperte alle mani di Brie che è la mia tecnica e lei si occuperà di fare questo lavoro e vi aspetto per il finale con un effetto stratosferico Paul Mitchell semplicemente e Color Spa insieme una bomba di colore Grazie a tutti e la nostra I capelli di Laura per ricevere tutto il nutrimento di acqua puli. Applichiamo sui capelli di Laura un trattamento color protest di Paul Mitchell, che è un trattamento che prolunga la durata del colore e idrati i capelli. Successivamente, inizieremo ad una giocazione di terapin con l'experiment di Agua Pui, questa è la picca dei capelli di Laura Pui. Adesso procediamo con la tonalizzazione su tutte le nudezze. In pacco con il keratin creme di Agua Pui, dopodichè li sciacchiamo e procediamo con la soccatura. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.